C'è ancora qualche posto a disposizione, al massimo saranno 600 per partecipare alle visite guidate proposte dal FAI che domenica 18 dalle 8.30 alle 16.30 porteranno alla scoperta di angoli storici e poco conosciuti di campese con una novità delle ultime ore. Verrà aperta in via eccezionale solo per noi quel giorno il 18 la Pieve di San Martino che è usualmente chiusa perché sapete che ha problemi al tetto e per cui non agibile ma in maniera comunque di massima sicurezza perché questo innanzitutto verrà aperta anche la chiesetta di San Martino per cui direi che è un giro che rimarrete sorpresi al di là di qualsiasi aspettativa.